Vostro figlio è un ragazzo straordinario. Le sue capacità cognitive sono molto sviluppate. Ha più cose in comune con Einstein o Mozart di quante ne abbia con noi. Vorrei lavorare con vostro figlio. Aiutarlo a sviluppare le capacità che gli servono per una vita normale. Non glielo permetterò. Il mondo non è un posto amichevole. Ed è lì che deve imparare a vivere. Come sei? Diventate un solente finanziario. Come sei diventato consulente finanziario? Mio padre era un contabile di quelli con tutti i marchi di fabbrica, tipo il Proteggi Taschino. Ho il Proteggi Taschino. Niente male. Le piacciono i puzzle? Mi dica cosa avete. Le ha scattate tre anni fa un agente infiltrato. È la stessa persona. È stato avvistato a Tirana, Tel Aviv e Napoli. Rischia la vita per sistemare i conti di alcune fra le persone più spaventose della Terra. Cartelli della droga, trafficanti d'armi, ricettatori, assassini. Chi sopravvive a questo tipo di clientela? Immagini i segreti che conosce. Che ci fai qui? Ma chi sei tu? Sei diversa. E la diversità spaventa prima o poi. Ho difficoltà a socializzare con la gente. Anche se... È una cosa che voglio. C'è gente che ti cerca. Se i loro segreti diventano troppo grandi, saranno obbligati a ucciderti. Se ti metti su questa strada, non c'è ritorno. Certi miei clienti sono pericolosi. Perché i tuoi clienti ti seguono? Sei un contabile. Dobbiamo andare alla polizia. La polizia non ti protegge. Allora chi è? Il contabile. Cioè, tipo un ragioniere? Non proprio. Il contabile. Grazie a tutti